Adesso che abbiamo preso confidenza con la terminologia legata all'instabilità, iniziamo un nuovo studio sui carichi di punta. Selezioniamo un nuovo studio, quindi carichi di punta, ed accettiamo cliccando sulla spunta verde. Aggiungiamo il materiale facendo clic con il tasto destro del mouse sulla parte nell'albero delle funzioni e selezioniamo Applica materiale. Tra i materiali nella lista scegliamo il pet modificato contenuto all'interno della cartella plastiche personalizzate. In seguito aggiungiamo i vincoli. Clicchiamo su Vincoli a geometria fissa e selezioniamo tutte e quattro le superfici dei piedini della sedia. Premiamo il check verde ed andiamo avanti. Adesso applichiamo il carico sulla superficie superiore della sedia. Inseriamo un carico di 2000 N. Lanciamo ora lo studio. Come possiamo vedere, il fattore di sicurezza a carico di punta è inferiore all'unità. È interessante paragonare questo valore con quello che si otterrebbe con un'analisi statica. Creiamo perciò un nuovo studio statico. A partire dall'analisi del carico di punta, selezioniamo il materiale della parte, i carichi ed i vincoli e trasciniamoli all'interno dello studio statico. In seguito facciamo clic su Esegui studio e diamo un'occhiata ai risultati. Il grafico del fattore di sicurezza, di solito, non è presente di default. Creiamolo facendo clic con il tasto destro su Risultati e selezionando Definisci grafico fattore di sicurezza. Si aprirà un menu di gestione, premiamo il check verde e analizziamo i risultati. Come evidente, il nostro sgabello risulta pienamente verificato in condizioni statiche, nonostante risulti instabile secondo i principi di buckling.